Siamo ad Ardesio, qui al campo sportivo, dove da diversi giorni si allenano le squadre giovanili della Trevigliese. Insomma, Ardesio non è solo polisportivo, del quale parleremo fra poco, ma è anche accoglienza. In questi giorni abbiamo ospitato la squadra della Trevigliese. In questo momento stanno giocando e allenandosi i ragazzi del 2009-2008. Abbiamo ospitato anche i ragazzi a partire dal 2010 fino al 2013. Prossimamente arriveranno anche un'altra squadra del Brusa Porto. Tutto a carico della polisportiva Ardesio, anche quella che è l'organizzazione, la tenuta del campo, l'apertura anche di questi spogliatoi. Quindi effettivamente state arragando i vostri orizzonti e soprattutto il fatto di aver aperto le porte di casa vostra rende Ardesio ancora più attrattiva e soprattutto la polisportiva ancora più grande. Stiamo cercando di far conoscere anche un po' quello che è il territorio. Adesso noi come squadra di calcio che utilizza il campo 11 è solamente la squadra dei giovanissimi perché non siamo riusciti a fare altre squadre che potessero sfruttare questo campo. Quindi c'è stata fatta una richiesta dalla Trevigliese del Brusa Porto se potevano fare il ritiro presso l'Ardesio nel nostro centro sportivo e abbiamo accettato più che volentieri. Ci racconti un po' quella che è la loro giornata tipo, dove dormono, come si organizzano, quanti allenamenti fanno qui sul campo ad Ardesio? Allora, gli allenamenti sono divisi tra mattina e pomeriggio generalmente iniziano verso le 9 e mezza, 10 della mattina e nel pomeriggio dalle 4 pomeriggio alle 6 del pomeriggio. Alloggiano presso l'albergo Giorgio che dista da qua praticamente 100 metri e per loro è una manna perché nel giro di due minuti si recano a piedi senza bisogno di mezzi al campo sportivo. Invece parliamo della Polisportiva perché sì, voi gestite quelle che sono le squadre che si susseguiranno proprio in queste settimane qui ad Ardesio però Polisportiva che ha preso piede soprattutto quest'anno e ci sono numeri davvero importanti da segnalare. Sì, in questo momento le iscrizioni non sono ancora chiuse e abbiamo circa 160 iscritti suddivisi tra pallavolo, calcio e atletica quindi per una realtà come Ardesio sono numeri veramente importanti. Quella che tira di più è la pallavolo che ha visto davvero un boom di iscritti. Sì, la pallavolo in questo momento hanno sei squadre e con un'iscrizione di circa 90 persone quindi il grosso diciamo di quello che sono le iscrizioni degli atleti sono della pallavolo però non vorrei dimenticare neanche quello che è l'atletica perché ci sono i fratelli Filisetti che da 40 anni seguono l'atletica ad Ardesio e anche loro hanno un bel gruppetto insomma. Ve l'aspettavate questo boom di iscrizione e insomma questo piacevole gruppo che si è venuto a formare con numeri così importanti? Sì, sinceramente io sono nuovo e non conoscevo i precedenti numeri e non li conosco però sicuramente c'è stata una bella risposta da parte degli atleti. Grazie